interviene un'esperienza molto importante per noi anche recente il titolo per intervenire è il signor di Cureo Borgna Cureo recentemente sta applicando un protocollo tra Genziario De Maglio e Comune per l'utilizzo dei giorni di mobbi, dei giorni di alloggi che sono passati all'inizio della posizione pubblica la esperienza comunque è anche, non è anche come se non è un inquinino di Cureo ma è un sito con molta forza e con molta iniziativa e per sempre lo conosce e adesso ci racconta un po' questa esperienza molto importante per noi buongiorno a tutti io ho accettato l'invito a partecipare oggi e vi ringrazio per avermi dato questa opportunità di testimoniare un'esperienza positiva, o meglio un epilogo positivo di un'esperienza negativa io farò un intervento molto breve però credo che sia giusto prima contestualizzare Cureo è una città piccolina abbiamo 57.000 abitanti all'incirca siamo in una provincia molto grande con una situazione economica buona rispetto alla media del paese e la situazione economica della città di Cuneo è migliore rispetto alla media provinciale per darvi dei parametri di riferimento il tasso di disoccupazione nel 2016 in provincia di Cuneo è stato del 6,5% circa la metà del tasso nazionale e anche la disoccupazione giovanile è meno della metà del tasso nazionale il tasso di disoccupazione in città è stato nel 16 del 3,85% quindi è una città dove il livello di occupazione, il livello dei renditi è in questo momento storico meglio rispetto alla media della regione rispetto alla media del paese i dati sulla domanda di casa di edilizia e residenziale pubblica sono dati che però comunque sono in crescita io mi sono insediato nel 2012 c'erano in città circa un migliaio di appartamenti di edilizia e residenziale pubblica di vari tipi la lista d'attesa per le case popolari era di circa 300 famiglie in 5 anni abbiamo rilasciato 227 appartamenti dei quali circa un centinaio che hanno nuovi appartamenti quindi il patrimonio è salito da 1000 a 1100 case all'indomani del nuovo bando del segnastere di piccolare che abbiamo fatto la lista era di 400 famiglie Cuneo è una città, vi dicevo, piccolina, ordinata fatta di palazzi, non più di sei piani insomma una specie di giardinetto e alla fine degli anni 80 si è sviluppato in città un dibattito sull'ipotesi di accorpare in un unico spazio gli uffici ministeriali nel 91, anzi forse il modo migliore per far sì che una persona si rovini e riesci a contare i suoi sogni ecco nel 91 siamo stati esauditi nella nostra riflessione ed è partita la costruzione di un agglomerato dove è centrale gli uffici ministeriali e questo agglomerato ha preso il nome di Puff Palazzo Uffici Finanziari la città lo chiama il mostro nel senso che appunto in una città che vi ho detto, insomma, ordinata, piccolina tutto perfettino è stato callato dall'alto in derola il piano regolatore in derola ha il buon senso un mostro di 13 piani grigio, in cemento, brutto vi dico, il parroco dei salesiani che sono lì davanti a quel palazzo degli uffici finanziari quando è andato a inaugurazione che è stata fatta nel 2001 quindi 10 anni di costruzione con stop and go insomma una serie di difficoltà è andato lì e ha detto io la benedizione do alle persone che ci lavorano dentro ma non lo so il palazzo e accanto a questo palazzo ha detto mostro di 13 piani di 60-80m2 è stata costruita una palazzina di 18 appartamenti medio-grandi perché appartamenti da 100 a 140-150m2 che erano destinati ai dirigenti degli uffici pubblici che andavano a insediarsi nel palazzo di 13 piani quel palazzo inaugurato nel 2001-2004 quel complesso inaugurato nel 2001-2004 è stato cartolarizzato non so se vi ricordate l'operazione delle cartolarizzazioni lo Stato ha venduto a dei fondi privati per una cifra per far cassa immediatamente determinati immobili e si è impegnato a pagare un affitto vuoto per pieno di quegli immobili fino al 2021 nel nostro caso quel palazzo, il mostro negli anni ha avuto una storia che non ha funzionato è partita male e sta andando avanti peggio nel senso che è utilizzato credo ad oggi non so se arriviamo al 40% di utilizzo gli ascensori non funzionano non ci sono stati problemi come i micidi del fuoco ci sono state delle realtà da un ospedale una compagnia assicurativa che si è insediata all'interno e poi sono scappate perché ci sono problemi di gestione seri ho fatto di recente delle ordinanze perché ci sono dei pezzi di connecione che si staccano, cadono insomma è una situazione di vista la palazzo dei due alloggi destinata ai dirigenti ha avuto una storia non brutta è stata una farsa cioè non è mai stata utilizzata è vuota ora io mi rendo conto che se fossimo in un'altra città probabilmente quei 18 appartamenti non sarebbero rimasti vuoti diceva che è intervenuto prima di metti erano ci sono 10.000 appartamenti occupati abusivamente alcuni noi siamo un po' più tranquilli e quei 18 appartamenti sono stati vuoti per 18 anni e i cittadini pureesi tutti arrabbiati feriti da quello che è stato un intervento davvero un oltraggio alla comunità cittadina hanno guardato abbiamo guardato con un sdegno questo esempio di mala gestione pubblica io mi sono insediato appunto nel 2012 da allora il demanio ha proseguito la battaglia che ha fatto chi mi ha preceduto e poi il demanio diciamo negli ultimi due anni e mezzo tre anni ha decisamente cambiato cambiato approccio e ha decisamente cambiato marcia nel senso che è diventato come è stato detto prima adesso l'ho detto a un passato ma è diventato realmente concretamente un soggetto un interlocutore degli enti locali almeno io parlo tra gli enti locali che conosco quindi un interlocutore degli enti locali serio proattivo affidabile e con il demanio abbiamo iniziato a cercare un percorso per in qualche modo iniziare a sanare la ferita dei 18 appartamenti allora abbiamo ipotizzato una serie di strade percorribili vi ricordo che i 18 appartamenti erano stati cartolarizzati con tutto il complesso dei palazzi di ufficio finanziario abbiamo valutato appunto N strade percorribili compreso lo sprovo compreso lo sprovo e alla fine abbiamo scelto non di percorrere la strada dell'articolo 26 perché l'articolo 26 non ci avrebbe trasferito la proprietà del bene ma abbiamo provato a percorrere la strada del federalismo demaniale cioè il demanio con decreto si è riappropriato della palazzina dei 18 appartamenti e con un'operazione di federalismo demaniale la trasferita all'amministrazione comunale noi parallelamente abbiamo facendo riferimento al piano periferia abbiamo candidato nel piano periferia un intervento di social housing intervento impostato come cofinanziamento di interventi o interventi diretti dell'amministrazione comunale senza indicare l'immobile sul quale l'avremmo fatto perché non sapevamo se avremmo avuto o meno la rispondibilità di un certo appartamento nel caso in cui non ce l'avessimo avuta saremmo ci saremmo avremmo utilizzato altri contenitori comunali quindi abbiamo acquisito all'interno del piano periferia che è stato finanziato le risorse per rimettere in funzione degli immobili destinati a social housing nel frattempo il 22 non ho ancora detto direttore del demanio facciamo il consiglio comunale all'interno del quale deliberiamo l'acquisizione della proprietà del bene dei 18 appartamenti del demanio e poi intervenderemo appunto quei fondi del piano periferia per rimettere in funzione questi 18 appartamenti che da 20 anni e più sono lì inutilizzati e credo che questa sia un lieto fine di una brutta storia però è una storia da raccontare perché è una storia di buon dialogo e funzionamento di pubblica amministrazione e a tutti grazie 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 grazie